Intanto ci tengo a correggerla. La notizia non è che la Concordia va a Genova, la notizia è che la Concordia resta in Italia. Questa è la prima notizia vera. Voi sapete che qualche mese fa questo risultato non era per niente scontato. Oggi noi possiamo affermare che la Concordia verrà smaltita in Italia e che abbiamo addempiuto a un impegno che avevamo preso già dall'inizio del nostro mandato. La Concordia è stato un evento drammatico per l'Italia. Sono morte delle persone in quell'evento tragico ed è giusto, anche se niente può riparare il dramma umano di quelle famiglie, è giusto comunque che il ritorno economico di quell'operazione resti in Italia. La Concordia è di proprietà di una società che si chiama Carnival, che ha proposto di portare il relitto dall'isola del Giglio a Genova. Noi, come gli altri ministeri interessati, abbiamo dato tutte le prescrizioni possibili per diminuire il rischio di quel trasporto. Grazie. Grazie. Grazie.